Abbiamo fatto cinque e un quarto. Sono già che recupero, cerco di recuperare le fatiche della bici, altro che. Siamo live, Lore, presenta l'ospite, anche se penso che ci sia poco da presentare. C'è poco da presentare, intanto ciao a tutti. Allora, spero di essermi segnato bene tutto. Allora, professionista dal 2010, alle Olimpiadi ha vinto un oro e un bronzo ed è stato portabandiera a Tokyo. Ai mondiali su pista ha vinto due ori, due argenti e due bronzi. Agli europei su pista, otto ori, un argento e tre bronzi. Su strada, un oro europeo e anche un argento. 87 vittorie da professionista, ha vinto cinque tappe al giro, tre tappe alla vuelta, una tappa al tour. Tra le altre cose, tre classiche di Hamburgo, una Bretagne Classic e una Brouche de Pan, a Corso, Liquigas, Sky, Coffee Disque, Quick Step e adesso ovviamente è tornato alla Ineos. Elia Viviani, ciao Elia. Ciao a tutti, presentazione perfetta direi. È un curriculum lunghissimo. Per rimanere subito in tema serio, no? Ma se fondi tutte le medaglie d'oro, quanti grammi fai? Che ora è il prezzo di oro si vede. Bella domanda. Il prezzo di oro deve essere vinto. Ma sono realmente d'oro oppure sono solo placate? No, no, sono più le medagliette d'oro che ho vinto nelle giovanili. Sai quelle piccole che ogni volta davano alle gare giovanili, esordienti, allievi, così, che non il vero oro vinto da professionista. È tutta una bufala. È tutta una bufala. No, ovviamente quella olimpica c'ha una parte di velatura in oro, ma ovviamente per il numero di tutte le medaglie che ci sono non è proprio possibile che siano d'oro, ecco. Però no, guardavo proprio nei giorni scorsi che sono passato a trovare la mia famiglia, ovviamente le medagliette d'oro sono tenute dalla famiglia, dalla nonna, dalla mamma a casa e mi aveva fatto proprio notare questa cosa. guardavo tipo c'era l'anno 2004, 2005, 99, quindi categorie giovanili assolutamente. Più oro che poi da pro. Pensa a te, pensa a te, è una domanda che probabilmente nessuno ti ha mai fatto, è una domanda originale. Esatto, esatto. E anche i giovanissimi probabilmente danno ancora più valore quando vincono questa medaglietta d'oro adesso, se qualche gara ancora le fa. Ma con la crisi che c'è ora, dubito che Dio dolore. D'ora, d'ora, d'ora. Dubito, dubito. Lore, hai subito qualche domanda? Forse si legge subito le domande dalla chat per Elia. Intanto chiedevo appunto, prima di entrare in live, se aveva recuperato delle fatiche del viaggio di nozze. Abbiamo visto un po' di foto su Instagram, un posto veramente brutto. Dove sei stato. Bellissimo, bellissimo. Abbiamo voluto anche rendere partecipi un po' tutti, no? Perché era un po' anche il nostro regalo di nozze. Quindi a tutta la gente che ha partecipato a questo abbiamo voluto un po' renderli partecipi di quello che andavamo a vivere. Ecco, diciamo che era diviso in due parti. La prima settimana, i primi otto giorni in Namibia è stata un'esperienza fantastica. Non avevamo mai fatto un viaggio io, Elena. Era itinerante, tra virgolette, comunque alla scoperta di un nuovo posto e questa è stata l'occasione buona. E poi otto giorni alle Mauritius, molto più relax, vita un po' da villaggio per recuperare le fatiche non solo del matrimonio ma di tutta la stagione. Quindi bellissimo viaggio di nozze, assolutamente. Viva lo sposo. Esatto. Come stai adesso e come procede l'avvicinamento al primo raduno della Ineos? Che sarà? Il raduno sarà dall'8 al 19 di dicembre a Mallorca. Andiamo sempre ad Alcudia, già dai tempi di Sky non abbiamo mai cambiato posto quindi siamo sempre lì. Io però raggiungo i ragazzi il 12 perché prima corro la sei giorni di Rotterdam dal 6 all'11 quindi al ritiro ci arrivo il 12 di dicembre per gli ultimi 8 giorni. È ancora presto per capire quale sarà il tuo 2023, però ti sei già fatto più o meno un'idea in base anche agli impegni sia su pista che su strada del tuo programma di gare? Sì, ovvio che questo è un periodo buono per fare programmi, per cominciare ad avere in testa un piano. È ovvio che poi non è neanche facile seguire il piano che fai adesso, però sono tornato in bici intanto subito dopo le vacanze quindi ho fatto circa più di tre settimane, 23-24 giorni senza bici e adesso dopo una settimana di portare a spasso la bici con oggi abbiamo cominciato un po' le uscite di gruppo con oggi con Garain Thomas e Luke Rove e anche con degli avversari quindi facciamo gruppo in questo periodo. Cominciamo a pedalare sul serio diciamo e sicuramente il mio 2023 comincerà dall'Argentina quindi la Vuelta San Juan e poi proseguirà con gli europei di pista che sono subito dall'8 al 12 di febbraio a Grenken, la pista del record di Pippo e quella sarà la prima prova di qualifica olimpica quindi cominciano ad essere importanti anche i punti per la qualifica olimpica. Per proseguire poi probabilmente c'è un punto di domanda se UAE Tour o Weltallgarve e poi Kürn, Bruxelles Kürn, quello dobbiamo vedere un attimo come approcciamo i programmi di tutta la squadra e poi ovviamente il programma perfetto sarebbe Tirreno Adriatico, Milano sarebbe Gandelwegen che sarebbero le uniche due classiche che andrò probabilmente a disputare se tutto va bene nel 2023. Per poi riposare la lunga lista del giro è lunga perché in una squadra come la nostra potete immaginare che la guerra che c'è è solo per il posto, ci sono i nostri leader che probabilmente vogliono venire per vincerlo il giro e quindi tutti i rumors che si sentono su Geraint Thomas, su comunque i nostri big name per la classifica sono veri e vediamo insomma quindi per il giro è un po' troppo lunga, ecco ovvio che la mia volontà è quella di tornare al giro e tornare a essere protagonista, quello di cui ho bisogno adesso secondo me è proprio quello di tornare a vincere un qualcosa di importante per tornare un po' verso quello che è stata la mia posizione negli ultimi anni. Parlavi di big name, ora poi si esce un attimo dal personaggio di Elia Viviani giusto per capire, di big name a parte Geraint Thomas su che dritte ci puoi dare? Big name in squadra nostra possono comunque essere per quanto riguarda il giro, è stato fatto un bel acquisto con Haresman che è nuovo in squadra quindi c'è da capire un attimo che programmi può fare e c'è Martinez che ha approvato l'anno scorso per classifica al tour, probabilmente non sappiamo, cioè non so i programmi dei miei compagni al momento come ho detto anche i miei sono ancora un po' balzati in aria però era per dire che quando una squadra come Ineos viene al giro per vincerlo con Geraint Thomas potete immaginare che vengono proprio come facevano col Tour de France quindi con tutto il team intorno a lui, Gregari, ci sono tante crono al giro quindi siccome lui sarà l'uomo, il carico da 90 per noi al giro ecco. Anche perché insomma viene anche da un podio al Tour, esatto, esatto, sì lui è in questo, esatto, era l'unico sul pianeta Terra diciamo, quindi il primo dei corridori sul pianeta Terra quindi credo che anche il discorso di più crono del previsto al giro possa portare secondo me più di qualche corridore, i nomi di Roglic e di Evenepur non sono nuovi a nessuno quindi probabilmente sarà un bel giro, assolutamente. Vero, 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 vero. Mullah hai una domanda? Se no leggiamo da lasciare. Prima leggili vai, prima dai un po' spazio, poi dopo. Allora, prossimo anno Elia, ritornerai concitato sulla Stato, hai già occhi puntati su Parigi? Vabbè già risposto. No, sicuramente, la volontà è quella di, come ho detto, ho bisogno delle grandi vittorie, delle vittorie importanti per tornare al mio posto e quello che voglio, tornare al mio posto su strada. Il prossimo anno per quanto riguarda la pista riguarderà, il limitarsi a qualificare le Olimpiade, che, diciamo, è un'impresa comunque difficile, ma per la nazionale italiana che abbiamo creato, insomma, non dovrebbe essere impossibile. Ecco, quindi il calcio insegna di non partire già qualificati, perché, insomma, non è mai dato nulla per scontato, però il 2023 sarà, la pista vorrà dire, uguale qualificare le Olimpiade, quindi la voglia di tornare al mio posto su strada è più grande in questo momento. Elia, quale velocista ti ha impressionato di più in questa stagione? Koi, della Jumbo-Visma. Ah, visto, il nome magari di Phillips, invece Koi. È vero, è Koi, ragazzi. Giovane, giovane, impressionante, nel senso che l'ho visto in una seconda attività, ma poi si è confermato a un giro di Polonia o a gare comunque più importanti. Numero di vittorie comunque che non è facile da fare in una stagione, perché seppur con un'attività più secondaria rispetto a un Jakobsen, a un Philipsen, c'è da dire che nel ciclismo moderno non è facile dominare. Cioè, nel senso, il livello è altissimo e vincere più di dieci corse vuol dire che c'è qualcosa di speciale. Quindi, dico Olaf Koi. È un nome interessante, assolutamente. A te, per esempio, il mullà sta scrivendo e si... No, no, no. No, allora, aspetta, ne riprendo dell'altro. Ti volevo fare una domanda io sul treno della Ine. Io stesso è stato abituato, no, anche, ad esempio, alla Quickstep, dove mi ricordo forse è la tua stagione migliore, direi, no, in Quickstep. Le mie due stagioni migliori, assolutamente. Anche perché se era iniziato a fare il giochino, no, tra di noi, il fantasy, il fantasiclismo, io l'avevo comprato e mi ho fatto godere quegli anni lì, perché effettivamente vincevi tanto. Però poi, chiaramente dopo, sei andato in squadra, Kofidis è poi tornato alla Ineos, ex Sky, dove non c'era un treno forse forte come quello della Quickstep, dove, passami il termine, non eri nei piani della squadra come i primi piani, nel senso vincere il Tour, portare Thomas, portare quattro Ghegari. Certo, certo. E lì a Viviani non aveva un treno forte come quello della Quickstep. Quindi il prossimo anno come sarà strutturato? C'è da dire che, facendo un passo indietro, c'è da dire che all'Aquistep, cioè il treno che c'è all'Aquistep non c'è nella nostra squadra. È impossibile da riproporre, è difficile da spiegare, perché quando sei là sembra tutto facile, però è un meccanismo che è automatico. Probabilmente i corridori che ci sono, probabilmente l'esperienza che hanno i direttori, probabilmente è una cosa, ho visto, che è difficile da ripetere. Quindi in quegli anni ti fa sembrare tutto semplice, che dici da un'altra parte lo posso riproporre, invece poi non funziona. Quindi l'hanno fatto vedere anche altri velocisti, il treno che c'è all'Aquistep è difficile da riproporre. Dall'altra parte… È merito di Morcov? Ti chiedono subito? No, perché c'è nel senso, Morcov è una pelina fondamentale, e quello è palese. Come esperienza, come sa gestire quelli davanti a lui, che poi è il trucco, però è incredibile come l'Aquistep, qualsiasi corridore, tu poi ti ritrovi nel treno, riescono a fare il suo, è fatto bene, non sbagliano i metri, non sbagliano il tempismo, non sbagliano. Quando alla tv si dice, ma l'Aquistep non c'è, ma attenti che arriva all'ultimo, e poi arriva, è così. Quindi secondo te Cavendish è tornato a vincere proprio grazie a quella cosa? 100%, 110%. E praticamente, possiamo fare una lista di probabilmente 10-12 nomi, Yves Lampert, Stibar, Asgreen, Alaphilippe, quando ero là, alla tappa che ho vinto al Tour, Alaphilippe ha passato in maglia gialla sotto l'ultimo chilometro in testa, però è difficile da riproporre fuori. Premesso questo, gli uomini in un team importante come il nostro, come quello che è Ineos, ci sono, perché parliamo di Ben Swift, parliamo di il cugino, Connor Swift che è stato preso quest'anno, parliamo di Ben Turner, il giovane sorpreso delle classiche del 2022, che anche lui è velocissimo, abbiamo un giovane tedesco, Kim, che anche lui è stato un po' indirizzato di scorrere con me spesso, abbiamo cavalli come Ganna, come Plap, sono corridori che quando prendono la testa la possono ottenere per un bel po'. Il punto, come dicevo prima, è che non è facile far sì che funzioni tutto come funzionava Inquistep, ecco. Hai risposto alla domanda fondamentalmente. Ti chiedono se vedi un futuro Viviani tra i velocisti, tra i dilettanti o comunque tra i giovani e poi ti giro subito la seconda domanda che è collegata. Come vedi, Milan è in versione velocista, perché secondo me, a parte i giovani dilettanti che magari, però non so, magari te sei più esperto di noi chiaramente, anche sul ciclismo giovanile, parlando dei neo-pro, dei pro che sono arrivati da poco, Milan secondo me è quello che potrebbe veramente diventare una ruota veloce di livello top, da quello che si è visto. Secondo me, sì, ha fatto vedere al Croazia che secondo me Milan ha una potenza, e lo conosco bene anche della pista, che in termini di potenza è l'uomo su cui puntare, nel senso che può diventare il nuovo Kittel, perché ha una volata lunghissima, potente, fisicamente possente, quindi è un corridore che specializzato per gli sprint può diventare veramente un dominatore degli sprint. È agli inizi, quindi ha fatto vedere qualcosa tra il Polonia e il Croazia, due vittorie, piazzamenti importanti al Polonia, quindi è forte. Al momento pronto che secondo me si trova supporto intorno a lui, dico Dainese, bel corridore, completo, veloce, ha vinto una bellissima tappa al giro, se trova un grande supporto da parte del suo team, secondo me è un corridore che può dar continuità e quindi può essere l'italiano veloce che già al prossimo anno, per esempio, quindi pronto a dare consistenza, secondo me. Per Milan, sono d'accordo con voi, è il talento che secondo me probabilmente l'Italia aspetta per le volate, assolutamente. Ok, ok. Per il giro del 2023 quale tappa hai cercato? Se lo farai, chiaramente, se sarai nella squadra, quale tappa ti piacerebbe cerchiare col bollino rosso? Allora, sarebbe un'agonia aspettare fino all'ultimo, ma a Roma, che ho perso nel 2018 da Sam Bennett, mi è rimasta un po'. Anche perché ho vinto sul traguardo di Madrid nel 2018 e è bellissimo chiudere un grande giro con la vittoria in una città importante, quindi dico una tappa e dico Roma. Anche se so benissimo che davvero ci sta aspettare tre settimane per vincere una tappa, però se devo scegliere una sicuro di poterla vincere, dico Roma. Vabbè, a doppio gusto. Il primo è perché ha finito il giro e si è arrivato a un fondo, il secondo è perché vinci l'ultima tappa. Poi è un traguardo prestigioso, assolutamente. Sì, sì, assolutamente. Allora ti faccio una domanda, visto che ha detto dell'ultima tappa. Visto che al giro ultimamente si opzionava il fatto di mettere la crono finale per motivi anche logistici a Milano, insomma ce l'hanno spiegato all'occhio e altri organizzatori che sono state in live con noi, quindi non è semplice fare circuiti finali Roma, Milano, Verona per il traffico, eccetera, eccetera. La domanda è questa. Rispetto al Tour de France che ha il classico finale a Champs-Élysées, famosissimo e bellissimo, o la Vuelta che sta cercando di replicarlo, a volte sì, a volte no, preferisci, cioè per te è molto fondamentale, essendo velocista, per finire un grande giro che ci sia la volata finale. La preferisci rispetto magari all'ultima volata, alla terz'ultima tappa? Spinge il velocista a finire un grande giro? Sono di parte perché sono un velocista, ma non voglio rispondere di parte, quindi la mia risposta è ovvio che per me è velocista, questa è la risposta ovvia, vincere, sì, vorrei la volata l'ultimo giorno. La risposta non ovvia è che non è solo quello il motivo, nel senso che tu porteresti i velocisti arrivare fino all'ultimo, l'ultimo giorno c'è poco da fare, le maglie se la godono, perché è una passerella, partiti insieme, fai le foto con i compagni, fai le foto con il team, tutti quelli che ti hanno aiutato fino a quel giorno, arrivare sempre allo stesso posto è un'altra cosa che dà prestigio, perché il traguardo di Champs-Élysées ha prestigio perché è a Parigi, perché ha fatto la storia, è lo stesso di Madrid, io capisco che una volta ogni dieci anni cambiano e fanno l'arrivo da un'altra parte, la crono, fanno questo, fanno l'altro, però quando torni a Madrid è Madrid, cioè quel percorso avanti e indietro su Madrid è quello, quindi per più motivi, non solo perché sono un velocista, ma dico sì, assolutamente, sarebbe molto più prestigioso avere sempre anche al giro, se non si può fare sempre nella stessa città, ma dico nelle grandi città italiane, alternarle, ma con un arrivo di gruppo, perché anche chi viene a vedere, vedere i corridori per tantissimi, per dieci giri per esempio, sempre passare, secondo me è un'altra cosa, è di un altro livello l'arrivo in volata con l'inizio anche in passerella, tra virgolette, quindi assolutamente sì, questa è una risposta. Ok, vai Lore. La domanda sulla Ineos, come è nata l'idea di tornare alla Ineos ex Sky? Noi abbiamo letto un po' di cose legate anche al rapporto che hai di amicizia con Filippo Ganna, poi immagino che ci siano anche altri aspetti, ma immagino che tu abbia anche avuto altre offerte, che cosa è che ti ha spinto a tornare alla Ineos? Consapevole del fatto che è una squadra che punta molto sui grandi giri e magari dà meno spazio alle ruote veloci. Guarda, è nato tutto a Tokyo 2020, io a Tokyo arrivavo da un anno e mezzo, difficilissimo, nel senso che poche vittorie, una vittoria, tre, perché due l'ho fatta in maglia azzurra all'Adriatica Ionica, subito dopo il giro, prima delle Olimpiade, però arrivavo da un periodo difficile dove su strada non raggiungevo quello che volevo, la vestitura di essere portabandiera mi ha caricato di responsabilità, ma responsabilità che mi sono piaciute e quando ho messo piede a Tokyo ho capito quanto per me sono importanti le Olimpiadi, dall'oro olimpico di Rio alla batosta che ho preso a Londra, a Tokyo che stava arrivando, quella medaglia di bronza ancora di più mi ha fatto capire che, e quindi nella mia testa da lì è partito ok, io a Parigi voglio ritornare protagonista e voglio riprendermi un oro. In quale squadra posso fare questo? Ineos che mi ha fatto vincere, mi ha aiutato a vincere Rio. Dall'altra parte, come dici te, avevo delle altre offerte, offerte che però non erano acquiste, o comunque non erano un team che mi avrebbe garantito supporto e grandi vittorie su strada, o comunque mi avrebbe facilitato il ripetere le annate di 2018-2019 e da lì quindi la voglia di tornare in un ambiente, uno che conoscevo già e due super professionale dove conoscevo dal meccanico al massaggiatore al manager che Rod Ellingworth, manager di adesso, era il mio coach negli anni 2015-16-17 e quindi questo insieme di cose mi ha portato a tornare, pur sapendo di non poter scegliere il calendario, di non poter comunque avere delle, cioè di essere messo in fila, tra virgolette, con tutti gli altri grandi nomi, ho scelto di tornare dove, insomma, stavo bene. Come ho sempre detto che alla fine quando sono andato sono andato via perché con la grande opportunità di andare alla Quistet, ma è un team che amo per tutto, per come sono fatti, per le persone che ci sono dentro e ovviamente anche Pippo che alla fine è arrivato quando io sono andato via, era un motivo anche in più, ecco. Però personalmente queste sono state le scelte che ho fatto. Ti faccio una domanda stronza, Liga. Reputi un errore il tuo movimento di mercato verso la Cofidis, visto i risultati che magari non sono stati eccezionali. Guarda, sono una persona che non mi piace mai guardare indietro o comunque dire ho sbagliato, non ho sbagliato. Cioè, ammetto gli errori, però in quel momento era il momento di, nel senso che alla Quistep non avevano offerta per poter rimanere. Patrick è fatto così, sa benissimo la sua forza e quindi i velocisti li cambia abbastanza spesso e quindi non c'erano le condizioni per poter rimanere. Fermo restando che avevamo quasi un accordo di proseguire quando alla fine poi è andato a rompersi con la super offerta Progetto Cofidis e che quindi dopo due annate così non potevo rifiutare assolutamente. Quindi assolutamente no. Quando sono andato ovviamente, come ho detto, tutto sembrava più facile perché comunque quando lascio in acquista e dici ok ho imparato come si fa, lo ripropongo dall'altra parte, non è stato così e quindi sono stati due anni però che mi hanno fatto ovviamente crescere e capire tante cose anche di me. Quindi guardando indietro io penso che in quei due anni è mancato qualcosa anche a me perché non è normale che in due anni io non ho trovato delle giornate del campione, cose che negli altri annate ho trovato. Visto che prima ho menzionato Cavendish, ti piacerebbe fare una roba del genere? Visto che stai parlando bene della quick step perché l'hai già citata diverse volte sicuramente ti ha lasciato tanto a livello sia di palmares ma anche di emozioni, ti vedi un domani, sei in un'altra squadra va bene, però ti vedi un domani un possibile ipotetico ritorno e magari per finire la carriera o ritornare, magari succederà già quest'anno a vincere ad alto livello tappe importanti. Qualora non succedesse potresti avere nella mente una roba come Cavendish che torna alla quick step perché ti ha dato merito il treno lì, no? Sì, al 100%. Anche a Cavendish, chiaro, però... Io penso, ti rispondo così, nessun velocista rifiuterebbe un'offerta dalla quick step. A parte Sam Bennett. Anch'io sono andato via, quindi non posso dire a parte... Eh, vabbè, è diverso. Però, sì, diciamo che Sam Bennett probabilmente non si è giocato bene, cioè nel senso non si è trovato nell'ambiente in cui pensavo, però sì, ci sono rimasto anch'io che fosse così, soprattutto perché la prima annata è stata paurosa la sua, quindi... Sì, assolutamente. Assolutamente sì, però è folle qualsiasi tipo di velocista che rifiuta un'offerta dalla quick step. Vabbè, effettivamente, insomma, i risultati parlano chiaro. Mullah, vai! Ah, volevo fare una domanda prima sull'europeo, però prendo in prestito questa domanda di Davide che mi ha fatto prima in chat, dice, raccontaci la giornata europei su strada e oro su pista. Dice, reggi bene lo stress da gara. Poi magari si può approfondire sull'europeo su strada, perché anche... Eh, sull'europeo è da Inese Viviani, vediamo capire la cosa. Però, vabbè, la prima la domanda era quella. Beh, la giornata è stata intensa, ma alla fine si è dimostrato che è stata fattibile. La verità è che in maglia di campione del mondo, nella mia corsa, nell'eliminazione, era l'unico motivo per provare un'impresa così, era perché c'era l'eliminazione, ecco. Quindi, eh, le giornate in maglia di campione del mondo si passano poche volte, vestirla è una cosa fantastica, abbiamo detto ci proviamo, ecco. Quindi, ehm, è stata una cosa decisa il giorno prima e, ehm, abbiamo detto proviamoci col, col punto di domanda che, ovviamente, se poi dopo la gara su strada non me la fossi sentita, non avrei partecipato, ecco. Quindi, ehm, lo stress di gara sì e 100% c'era la delusione in me anche della gara su strada perché, ovviamente, mi aspettavo di più. Cos'è successo in quella, in quella volata all'Europeo? Ganna, ad esempio, Ganna lì ha fatto un buon lavoro a un chilometro più o meno dal traguardo, poi dopo si è perso il treno dell'Italia, no? E avete fatto le volate più o meno singole? Il problema è che l'Europeo era uno dei miei obiettivi su strada. Non sono riuscito a dimostrare al CT e alla Nazionale di poter meritare una leadership unica, quindi, eh, ero anche fuori dall'Europeo perché sarebbe stato Nizzo e Dainese, i corridori incaricati, poi è successo che è successo, una settimana prima, eh, Nizzo una brutta, brutta caduta, il mio inserimento all'ultimo, ehm, però il Benna era in una situazione dove non aveva un velocista italiano dominatore e non era una situazione facile, quindi, eh, da persone mature, io, Nizzolo, a Dainese, eh, è stato detto questo perché la verità era quella, nessun velocista italiano ha dominato come magari ho fatto io nel 2018, nel 2019, come ha fatto Nizzo in altre annate, aveva una vittoria a Nizzo e una io e una Dainese di prestigio, però mancava un velocista di continuità e un velocista che si giocasse a ogni volata con grandi nomi, quindi non era facile puntare tutto su un corridore e tutti eravamo d'accordo sul fatto che, eh, l'unico modo di poter portare un risultato all'Italia era sfruttare quello che era il nostro treno, quindi un treno perfetto, uguale, eh, miglior risultato possibile, che poteva essere una medaglia, visto lo Yaku Senne imbattibile e in quella volata lì. Eh, e quindi, eh, il treno è stato perfetto fino a un certo punto, ci siamo spaldati e da lì è arrivato il risultato, che non è colpa del treno, perché alla fine il settimo posto era… Ci sono anche gli altri, purtroppo. Esatto. Il settimo posto erano quello che erano le mie gambe, probabilmente l'undicesimo di Dainese era quello nelle sue gambe, quindi, ehm, se vogliamo trovare la perfezione abbiamo sbagliato in quella rotonda. L'ultimo uomo chi era lì? A te o Dainese? No, 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 io avevo il treno a disposizione e Dainese era libero di sprintare. Ok. Quindi lui era, diciamo, ruota libera e te no, ok. Esattamente. E io avevo il, come ultimo uomo Guarnieri, abbiamo perso Milan, che doveva essere il penultimo. Davanti a Guarnieri, quindi, si è ritrovato Trentine e Ganna, e quindi, fatta la rotonda, sembrava anch'io, ho detto, wow, è il treno dei sogni, ci siamo spaldati e da lì ci siamo buttati nella mischia ed è arrivato il risultato che le nostre gambe hanno determinato. Quindi, buttati nella mischia, il settimo era quello che potevano fare io con le mie gambe e Dainese è quello che ha fatto, quindi questo è stato il nostro europeo. Diciamo che, come ha detto, dovevamo sperare in un filasse tutto liscio e vedevamo il risultato, ecco, quindi, premetto questa cosa qua, proprio che il fatto di fare quello che è stato fatto negli anni precedenti, Nizzolo a Plue, io ad Eichmar e gli europei che abbiamo vinto, insomma, con un capitano unico, e l'approccio era assolutamente differente, ma avevamo dei dominatori, quest'anno non c'era un dominatore. Però la vita, quando ti toglie, poi ti dà, fondamentalmente, quindi ti ha tolto una prestazione eccezionale, maiuscola, all'europeo, però dopo poche ore... No, è ovvio che io in quell'europeo vedevo un po' un'occasione di rinascita, no? Perché era a disposizione dei corridori della Madonna che possano fare un treno per te, è ovvio che vedevo in quell'europeo. Già se nella storia così avevi fatto l'europeo e poi... No, no, cento per cento, cento per cento. Avevi preso l'oro subito dopo, vincevi due ore... Sai che noi atleti non siamo mai contenti, no? Quindi... Hai fatto già la storia così, perché vincere un'oro e fare un pozzo una gara su strada penso sia già una roba unica, no? È mai successo? Sì, 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 è vero, è vero, è vero. Non credo, eh. Non credo, non credo. Quindi già hai fatto una roba eccezionale, tu avessi vinto anche l'europeo, dai, vuoi troppo. Ne era un po' troppo, no? Ne era un po' troppo. Deci'ha una medaglia, dai, una medaglia salva Italia, ci sta. Non d'oro, eh, diciamo, finto oro. Una medaglia, una medaglia, ci sta. Aspetta, aspetta, fammene fare un'altra, fammi chiede un'altra. Se la devo fare, se la devo fare. Ma vai. Allora, no, vabbè, ormai, se no poi me l'ascolto. Allora, hai vinto tanto sia su strada che su pista, no? E ti sei tolto soddisfazioni, grandi soddisfazioni sia, no, in un ambito sia nell'altro. Mettiamo che tu tornassi indietro nel tempo, però con la memoria delle esperienze che hai fatto, chiaramente, e dovessi, sai, cioè, e ti costringessero a scegliere fra pista o strada. Cosa scegli? Strada, perché il ciclismo è strada, nel senso che la storia del ciclismo, vincere i tre grandi giri, vincere le più grandi, importanti di strada, non, 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 avrei, cioè, la carriera l'ho fatta su strada. Eh, questa è una, chiaro, no? Eh, no, cioè, se preferivi le medaglie oppure le vittorie che hai fatto, cioè, se danno più soddisfazione. Ah, devi pensare, comunque, cioè, se sono gli avigiani per quello che ho vinto su strada, sicuramente la medaglia d'oro ti dà, cioè, tantissimo, e se mi dite la soddisfazione più grande è Rio 2016, imparagonabile con nessun'altra vittoria. Però, se dovessi scegliere Agli Albori, per una carriera su strada così, o quelle due medaglie, ovvio che il ciclista, cioè, Elia, che vince i tre grandi giri, è il corridore, insomma, che tutti conoscono adesso. Giusto, giusto. Allora, Stefano ti fa la domanda sulla crono di Lussa, del Monte Lussa, della penultima tappa del giro, se è geniale o ammazza gambe, però io te la faccio un po' più larga la domanda. Il percorso di giro ti piace? A prescindere poi se lo farai o meno. Il percorso di giro, fermo restando che tutti dicono che è sempre più duro, però io penso sempre che una linea sull'impossibile c'è, quindi non può essere più duro degli altri anni, perché il giro è già una corsa comunque durissima. Mi piace, ci sono tante crono e secondo me questo attira molti, perché il tour con meno crono e con quei corridori che vanno così in salita, probabilmente in tanti vedono una possibilità in più sul giro. La crono del Lussari la conosco bene, perché come sapete Elena è di zona, Enzo Cainero, organizzatore delle tappe in Friuli, qualcosa di nuovo si inventa sempre. Sono stato sul Lussari in Cabinovia, perché è l'unico modo in questo momento di arrivare al Lussari e devo dirvi che è bellissimo lì su. Ho visto da su dov'è la strada in cui si sale, è una cosa folle, ma sarà spettacolarissimo e probabilmente ci saranno anche foto da altri tempi, perché i corridori non possono essere seguiti con la macchina, quindi saranno delle moto, bici a spalle, un po' come è successo qualche altra volta. Dov'era la crono scalata di chi era uguale a Flande e Corones? Flande e Corones può essere, sì. Sì, però ma sì. Quindi secondo me sarà una cosa bella, ci sono quegli 11 km piatti, poi quei 7 km ha comunque pendenze importanti su sterrato e secondo me sarà bella e anche i corridori è una cosa che può piacere, perché comunque anche gli scalatori che si giocheranno il giro piace un confronto faccia a faccia. Lì sono loro la salita e chi va più forte guadagna e perde, quindi non c'è tatticismo, non c'è niente e secondo me il sabato così, bello. Ci ricordano che Benjamin Tomah, la solita domanda, aveva risposto pista e non strada, però Benjamin Tomah ha vinto meno. Eh, capito, no, non ha vinto la vittoria, è bene il discorso. Due domande veloci le faccio io, la prima è una domanda che abbiamo già fatto ma voglio sentire anche il tuo parere, che corridore è Ethan Hater? No! Voglio sentire il corridore. Lo aspetta lo sa, lo vado allora. Lo conosce bene, no, avendo fatto tanta pista, già è uno dei più forti in pista. E continua a chiederlo a tutti, ma non lo sa nessuno, quindi è inutile, no, scherzo. Corridore della Madonna, nel senso che è completissimo. Non so se per quello che sono i livelli adesso potrà mai essere un corridore da tre settimane, però mai dire mai. Corsa a tappe una settimana saranno la sua specialità secondo me. Nacchil Re non la può vincere tranquillamente, cioè in difesa, in salita, ma a buoni, crono, così, tappe semidure vinte in un gruppo ristretto in volata. Non penso vincerà mai una volata piena di gruppo, cioè una delle otto tappe al Tour tutte piatte, no, ma non tanto per la potenza che gli manca, ma per il limare. Cioè, per quello che è l'immaggio al Tour de France o al Giro d'Italia, nelle volate piatte con i veri velocisti, la vedo dura. Però, se devo dire, cioè, sprint ristretti e corse a tappe una settimana, punti fortissimi. In pista, quando va, è impressionante. Cioè, da non provare a stagliarruota perché non fai neanche secondo. Però su strada quest'anno ancora ha un po' stentato, no, pure si ha vinto... Beh, due tappe, quante tappe a Romandia ha vinto? Poteva vincere cinque tappe a Romandia e ne ha vinte tre, una roba così, due tappe a Romandia. Cioè, magari ci si aspettava di più alla volata, forse. Però è andato a casa subito per Covid, quindi è andato a casa dopo una settimana per positivo al Covid, quindi della well tempo. L'avevamo fatto a Tosato, praticamente c'ha, se non erro, no, allora, collegio mi se sbaglio, ha detto che Ita Neter non è un velocista, il prossimo anno comunque non ci sarà un treno per lui, in teoria. Confermo. Sì, beh. C'è qualcun altro che dovrebbe avere un treno. Per le grandi classi che ancora non c'è. Problema all'immaggio. Lo classifica come un corridore da corsi a una settimana non troppo dure. Sì, sì, è quello di, cioè, tour down under, secondo me anche a Romandia alla fine, ok, sono dure, però l'anno scorso ha dimostrato che se sei arrivi, cinque, li porta a casa, cioè, ci arriva là, a crono va fortissimo. Come corso a tappe di una settimana in Francia, dove salite magari becchi a Pariginizza, non super impegnativa, secondo me è uno che può piazzare una Pariginizza. Quindi, corsa a tappe una settimana saranno il suo forte, volate ristrette idem, volate ristrette 30 corridori, 40 corridori. Non ancora classiche di un giorno o volate di gruppo per quello che vi dicevo prima, cioè, l'immaggio che c'è prima della Cipressa alla Sanremo prende la salita per ultimo, o comunque nelle ultime dieci posizioni. O un Fiandre, esatto, è un Fiandre idem, cioè, una classica così, potenzialmente, probabilmente ha le gambe, però è più facile che arrivi davanti alle Ardenne perché è selezione naturale. Non c'è da allimare, no, come si dice in generale. No, lì mi sicuro, anche l'Ardenne, però lì mi tra quelli che hanno le gambe per restare tra i 30-40 corridori che arrivano sotto il Mour de Wies o all'Harmstel o in un finale di una Liege, ecco, quindi, cioè, vedo più gare di un giorno così che non gare semiveloci come classiche, ecco. La seconda domanda, Lore? La seconda domanda sulla questione sicurezza, tu che hai fatto tantissime volate, quindi un po' di esperienza ce l'hai, col passare degli anni e arrivando ai giorni nostri, cosa ne pensi del fatto che da casa, guardando dalla televisione, mi pare che le volate siano sempre più, non pericolose, però c'è quel fattore rischio che mi pare un po' aumentato rispetto al passato? Secondo me non stiamo, cioè, stiamo valutando tutto il possibile immaginabile, io faccio parte della commissione Atleti e cerchiamo di valutare tutto il possibile immaginabile, ma ci manca una persona che veda, cioè, quando noi vediamo i percorsi è troppo tardi, nel senso che noi non stiamo a guardare il finale della tappa, cioè, la tappa di Roma, io non ho visto adesso com'è l'ultimo chilometro, esempio, no? o la tappa, non so, X del Tour de France in volata, non ho visto adesso, e probabilmente noi il percorso lo guardiamo il giorno prima, la settimana prima, quindi, secondo me, manca, bravo, e non è impossibile cambiarlo, quindi, secondo me, in tutte le gare, so che è una cosa difficile, quasi impossibile, perché alla fine, se tu pensi all'ammontare di gare che c'è, come è, come è, come è possibile, trovare, eh, tutte le gare, il finale, la rotonda, il, eh, non so, quello che c'è in mezzo, il, eh, sparti traffico, eh, così, però manca una posizione di verifico. Anche al giro, anche al giro di Croazia, peraltro, no? Che tu hai fatto, ho visto delle cose abbastanza allucinanti. Esatto, 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 e lì manca, secondo me, cioè, nel senso, o vengono messe le regole precedenti, però, è vero anche che è difficile, da parte del luce, dire, e gli arrivi devono essere almeno 500 metri dritti e senza, cioè, potrebbe essere una cosa così, tra virgolette, gli ultimi arrivi, però, non è, cioè, è difficile da fare, da dire, perché alla fine tu obblighi gli organizzatori a non far l'arrivo lì o là o su e giù. Manca una commissione che veda i percorsi prima e che dica sì o ni o questo da togliere, questo da fare, questo da, e su questo siamo d'accordo. E poi parliamo della parte organizzativa, quello che è successo al Polonia, qualche anno fa, e di transenne, di piedini, di cose così, ed è tutt'altro argomento. Quindi il fattore sicurezza è un pallone enorme da cui, cioè, c'è da prenderne, sarebbe proprio da fare, non una commissione, ma una commissione per corso, una che verifichi le transenne, una che dica, e una regola fissa e precisa è difficile da fare, perché anche con le transenne tu devi dire, ok, tutti gli organizzatori devono comprare questo tipo di transenne, però penso che, cioè, adesso io non sono un esperto di queste cose qua, però penso che sia una cosa difficile da imporre, ecco. Quindi è una cosa su cui assolutamente se ne parla, si propone, si fa, però è difficile fare un passetto, e quindi immaginiamoci una maratona. Cosa si aspetta? Qualcosa che succede di grave? No, 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 non è che si sta aspettando quello, come ti dicevo, è quello che tutti stiamo lavorando per, però non è facile, cioè, tra il dire e il fare passa veramente di mezzo un casino di cose, di tempo, e quindi si fa un passettino minuscolo alla volta. Domanda sulla Milano-Sanremo. Allora, correggimi se sbaglio, controllavo cosa è che gli stazzo adesso, miglior piazzamento nono posto nel 2018? Due volte sono arrivato davanti, 2018 nono e 2019 che è stata, aspetta, forse è contrario, no, 2019 fuori al diciannovesimo, una cosa così. Sì, cosa ti è mancato in carriera? Vincere la Milano-Sanremo quando si passano i 33 anni come te è difficilissimo, quindi è molto difficile, però mai dire mai, no? Sì, e soprattutto vincere la Milano-Sanremo ora, come la stanno correndo adesso, è tosta. Bravo, è sempre difficile per il modo, cioè, in questo momento qua, chiunque scatta su un cavalcavia, quindi quando scattano corridori come Wanderpool, Pogacar, questi qua, è ovvio che la differenza la fanno. Per arrivare davanti a Sanremo, in questi anni qua, serve la giornata della vita. Vedi Kaleb due anni fa, vedi Nizzo l'anno scorso che è caduto alla fine. Iwan sul poggio, sembrava Fontani. Sì, Iwan sul poggio, ma Nizzo l'anno scorso ha scollinato quarto o quinto sul poggio, eh, Nizzo. Poi caduto in discesa, però, se arrivava là, ok, Moritz è scappato a tutti, ma la volata per il secondo posto era sua. Quindi, secondo me, serve proprio la giornata della vita al velocista completo adesso, ecco. L'anno scorso, la cipressa, io vi posso assicurare che… L'anno corso da pazzo. L'anno scorso, io mi sono staccato dopo un minuto e mezzo di cipressa a 505 watt medio. Peso 72 chili, batte un po' i conti voi. Sì, tanta roba. No, 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 è una roba… Cioè, l'anno scorso è stato fatto, a detta, cioè, parlando così tra corridori, è stato fatto più piano il poggio perché si è arrivati tutti… A tutta. A tutta, dalla cipressa. Quindi, alla fine viene corsa veramente alla garibaldina, diciamo. Ma a qualsiasi gara. Cioè, la Duarsdorf-Landeren, che è una gara dove un velocista può dire, boh, un piazzamentino lo faccio, l'anno scorso a 80 dall'arrivo, Pidco che i miei hanno portato via 13 corridori. Più visti. 8 corridori, neanche 13. Più visti. Quindi, è proprio difficile l'approccio. Cioè, secondo me, quelle semi-classiche dove il velocista sperava di… Sarà sempre più dura. Eh, ma a parte le semi-classiche come la Duarsdorf-Landeren… No, no, le classiche anche, scusa. Ok, ma anche, appunto, le classiche sono cambiate. Ora, a parte le storiche, no? Perché più o meno la Liegis è sempre decisa, cambiano il percorso. Sì, sì. Si è semplicita nella solita maniera. Al Fiandre, ok, è cambiato il percorso, non c'è più il Gramont, ma c'è… Secondo me, è difattibilissima per… Per noi resta solo la Gandelwegen, che è ancora fattibilissima perché l'ultimo Cam è la 40 dall'arrivo, c'è quello stradone. C'è tipo, l'anno scorso io non al 100% l'ho schivata di un pelo di non essere rimasto con i primi, però un velocista alla Gandelwegen ancora arriva davanti, cioè, in condizione, insomma. Però, vedi, anche l'anno scorso comunque erano lì un gruppettino dove c'era qualche velocista, però alla fine sono arrivati in 3-4, insomma. Sì, 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 perché poi… però lì è la classica cosa che se hai due velocisti davanti controlli la corsa. Cioè, tipo, a me è capitato quella persa da Sagan o l'anno dopo che ha vinto Christophe, essere arrivato tutte e due le volte a giocarmela in volata perché arrivi davanti e se hai quattro compagni da acquiste, se c'ero io, tiravano e chiudevano la corsa. Se non c'ero io, attaccavano come delle molle finché portavano via due o tre corridori. Quindi sono tutte dinamiche che se il velocista ha passato il chem e lo passa davanti, ci sono le squadre che… cioè, ci sono i compagni che controllano. E se non ci sono i velocisti, è ovvio che le squadre cominciano… cioè, sono tutti con l'interesse di portar via un due o tre corridori. Sì, poi la porta è strana perché c'era Van Aert dietro, comunque è partito, ha cercato gloria e poi ha perso da Girmai. Ha fatto fare la storia a Girmai, è andata bene così. A Girmai. Però ti volevo fare una domanda, appunto, cos'è cambiato negli ultimi periodi? Perché la Sanremo, io guardo il ciclismo da vent'anni, forse anche di più, e diciamo negli ultimi anni la Sanremo è totalmente cambiata. Cioè, difficile che arrivi al gruppo di 30-40 corridori come a Tempi di Cipollini. Ora è veramente molto difficile. Sono cambiati gli interpreti? E se questa è la principale differenza? Siccome è cambiato… cioè, non dico il livello perché è brutto dire… Cioè, nel senso, andavano fortissimo anche anni fa, perché i tempi sono quelli, si ci presta appoggio. Proprio, secondo me, anche una Sanremo è corsa… cioè, tipo l'anno scorso, vento in culo, si pensava, ok, dai, si sta in gruppo, si chiaccherella fino per i primi 180 chilometri, e invece non c'è stato un momento che non eravamo in fine indiana l'anno scorso alla Sanremo, perché sono andati via tanti corridori, perché nessuno si è messo a tirare subito e quindi i team hanno un po' giocato tatticamente e poi si è fatto tutto il giorno in fine indiana. Quindi, secondo me, è proprio una questione di… tipo il tour quest'anno. Cioè, a tutta, dall'inizio alla fine, e chi più ne ha più ne metta. E quindi, cioè, vengono a mancare delle logiche che qualche anno fa c'erano e adesso non ci sono più. Cioè, dalle squadre che prendono la testa e si mettono a tirare e controllano la corsa, a chi, come l'anno scorso, lui è e viene per vincere la Sanremo con Pogacar, che quando hai una squadra completa che prende la testa del… cioè, l'anno scorso c'era da sperare che l'UAE nell'immaggio non prendesse la cipressa in testa e invece l'hanno presa e quando hai corridori come Ulissi, Formula… cioè, non esistono, tra virgolette, più gregari. Cioè, corridori, super… la cipressa fatta tutta da questi nomi qua, è normale che cambia quello che è la corsa, assolutamente. Diciamo, rispetto agli anni scorsi dove c'erano molte squadre di velocisti che tenevano la corsa chiusa in una certa maniera… Da subito, certo. Ci sono meno velocisti a giocarsi la Sanremo e più uomini… Con i percorsi che stanno andando avanti da tutte le gare di una settimana di Grand Tour, da quanto le salite sono importanti, dai ritmi che si fanno, la figura del velocista puro andrà a mancare… cioè, negli anni andrà a mancare… cioè, sarà sempre meno. Cioè, il kit lo… il velocista… cioè, il velocista da volata piatta o il velocista tiene in salita e quindi passa le fatiche per finire un Grand Tour, per dire, o per vincere delle volate semidure, per passare la salitella di 4-5 km agli ultimi 30 km, cioè, verranno veramente a mancare i velocisti puri negli anni. Meno male Ivan 40 ha smesso qualche anno fa, mi verrebbe da dire. Ivan 40 era il velocista dei primi anni 2000 che si staccava anche su Caravaggio. Velocista puro, che sta facendo un ottimo lavoro con il settore velocità della pista, per dire, perché stiamo tornando a livelli ottimi, quindi, assolutamente. Ti facevo una domanda per Elena, due domande. Sì. Rugante, che è il nostro follower appassionatissimo di ciclismo femminile, potrebbe essere lei l'ultimo vagone del treno della Vibes, ti chiede, quest'anno, e poi come si trova ad avere la Wander Breger in ammiraglia? Non so se ci puoi rispondere a queste domande. Sì, 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 assolutamente. Parliamo tanto con Elena, quindi ovvio che so abbastanza anche del suo mondo, di come stanno andando le cose, assolutamente. Secondo me, più che l'ultimo vagone, può essere quella che gestisce all'interno, cioè che fa andare bene le cose, quindi magari penultimo o terzultimo, ma che sceglie il tempismo giusto che guida la sua squadra nel momento del finale, hanno fatto un ottimo acquisto secondo me con la Guarischi, come ultimo treno, come ultima donna davanti alla Vibes, perché lima benissimo, segue bene quelle davanti a lei e scaltra, oltre che essere veloce, perché la Barbara è una che nelle volate può finire nelle prime cinque sempre, messa a disposizione di una Vibes mentalizzata per fare quello, ovviamente, e lei lo è, per questo è stata presa lì, e ovviamente sarà un ultimo uomo, secondo me, fondamentale per la Vibes. E la Van der Breggen, sì, ottima direttrice sportiva, si è proprio entrata nella parte subito e ne parlano veramente bene che dalla Miraglia guida bene la squadra. precisa e determinata e anche che pretende, pretende dalle sue atlete. Allora, Kiklov ti scrive da Twitch, io mi sono innamorato di Elia quando lo vedi in lacrime allagando dopo un secondo posto dietro a un super zagan, la commozione umana di un pluridecorato olimpico mi sciolse il cuore. Quello è ancora il rimorso più grande della mia carriera. Eh, infatti stavo per chiedere, quello è il tuo più grande rimorso della carriera? Sì, 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 100%. Nel senso che quel pianto era perché io in quel momento mi sono reso conto che potevo vincerla, ma l'ho persa. Quindi ero sulle transenne a destra, Sagan ha anticipato davvero campione a sinistra e quando io ho trovato spazio per andare era tardi e quindi mi sono reso conto che lì per lì mi sono reso conto che me la sono mangiata, tra virgolette. Poi averla vinta, averla persa, solo le gambe o comunque la linea lo può dire. Ecco, quindi però da corridore secondo me lì per lì ti rendi conto quando puoi o quando non puoi. Ecco, quindi mi sarebbe probabilmente bruciato meno averla persa sulla riga con la mia volata e qualcuno che mi passa. Ecco, quindi probabilmente quella delusione è stata, sì, assolutamente quella che mi manca nel palmarès. E la vittoria più bella? Ah, come ho detto prima, è emozionante, niente può essere paragonabile alla vittoria dell'Olimpiade. Su strada per una serie di motivi dico l'italiano, nel senso che io dico la maglia di campione italiano è la maglia più bella da portare un anno, ovvio non ho mai portato quella di campione del mondo su strada, però già rispetto anche a quella di campione europea la maglia tricolore è un'altra cosa. Tra l'altro la tua era anche parecchio bella, mi ricordo. Sì, classic, classicissima, sì, sì, sì. La Quisteps e questo sono, cioè rispettano quello che è la maglia, dal Belgio all'Italia, all'Ulsemburgo e poi perché vabbè l'ho vinto in una maniera che non era normale per me e con una condizione super, ecco, quindi per come è andata la gara è la vittoria più bella secondo me su strada che ho fatto. Bene, ma non è banale l'italiano perché comunque ha vinto la tappa al tour, il giro. No, no, infatti la tappa al tour bellissima, capisci quando passi con la linea lì quanto è grande vincere la tappa al tour, quanto è grande quell'evento lì, però c'è da dire che ti resta nel cuore come una bellissima vittoria all'italiano assolutamente. La mia ultima domanda è qual è stato il corridore più talentuoso con cui è corso? Che ha ottenuto grandi risultati, invece quello più talentuoso che, diciamo, a cui è mancato qualche cosa, si è buttato via, secondo te? Allora, Sagan il più talentuoso, l'ho vissuto troppo da vicino quindi per quello che dico Sagan, nel senso che siamo passati, l'ho visto da direttante, abbiamo vissuto nella stessa casetta tra virgolette tra i direttanti, siamo passati insieme nel 2010, quindi ho visto tutte le sue tappe e il più talentuoso è secondo me che ha raccolto tutto quello che doveva, nel senso che non c'è una cosa che Sagan, secondo me, poteva ma non ha fatto, quindi dico Sagan. Il più talentuoso che però è brutto dire che ha buttato via, però dico Gaviria. Cioè, nel senso, comunque vicino d'età e comunque rivale di tanto perché i mondiali pre-Olimpiade 2016 sono stati dominati da lui in pista, però Gaviria del primo anno davanti in 5 alla Sanremo che si arruota da primo anno professionista è un segnale palese di quello che è, del talento che è Farnando, ecco. Quindi guardando un po' poi agli anni successivi dico lui, però fermo restando che secondo me Farnando non è, cioè, non ha chiuso, ecco. Perché comunque si trova, cioè, assolutamente sì, anzi, è giovane, è giovanissimo ancora per rivincere tutto quello che ha lasciato per strada, però è ovvio che, come abbiamo detto prima, è sempre più dura e quindi secondo me qualcosa, sì, egli è rimasto per strada. Quali corridori hai amato da bambino, si scrive Babayaga? A chi ti ispirava? Io ho cominciato a correre nel 98 guardando le imprese dei Pantani alla TV e poi correvo su una squadra che il 98 era il mio primo anno, come ho fatto mezzo anno nel 97, ma principalmente il 98 è stato il mio primo anno. Correvo con delle bianche, quindi assolutamente Marco Pantani. Poi quando ho capito ovviamente che cominciavo ad essere un po' più veloce, soffrivo più in salita e ovvio cominciavo a guardare più Cipollini, poi Petacchi, però un velocista che ho sempre ammirato tantissimo è Bonen, perché lo vedevo completo, quindi le vittorie a un fiander, le vittorie a me hanno sempre fatto sognare. Non era proprio un velocista puro, puro, puro. Esatto, esatto, esatto. Era un po' come hai detto te adesso, cioè un velocista che ci vorrebbe oggi, che fa le volate ma regge sui muri, sugli strappi, sulle solitelle. 100%. Fiamo restando che guardando il palmarès per diti Cipollini ha vinto tutto quello che io sogno di vincere, nel senso Cipo ha vinto due Gand forse, due Gand ha vinto la Sanremo, seppur provandoci tantissimi anni poi l'ha vinta, quindi uno come Cipollini sicuramente è ovvio che è il velocista dei sogni. Vullà. Allora, diciamo, facciamo una domanda via anche sul gioco, mettiamo. Io ho una domanda a fare su una cosa. Se tu dovessi comprare un uomo per le classiche del nord, no? Ma per quest'anno, della Ineos è giovane. Scegli Sheffield o Turner? Puoi comprare solo uno. Io prendo Turner perché penso che Sheffield probabilmente sia ancora più talentuoso, ma deve ancora, cioè, a correre in bici da pochissimi anni. Cioè, non so se sapete la storia di Sheffield, ma ha cominciato a correre a quindici anni, ci sono di mezzo due anni di covid e ne ha diciannove, venti, e quindi sì. Vi dico Turner perché è anche veloce e quindi secondo me in gruppi ristretti vincerebbe di più. Ma ci avrà qualche possibilità, secondo te, di fare la corsa? Sì, perché se guardiamo la nostra squadra, la mancanza di uno come Van Barle sicuramente la paghiamo, nel senso che uno che fa secondo a un fiandre e vince una ruba sarà una mancanza dura, però dall'altra parte apre portoni, se non cancelli, a quelli che abbiamo giovani pronti a raccogliere. O comunque a buttarsi, ecco. Allora, l'ultima domanda e ti salutiamo, Elia. Hai colsorio della Liquidas. Forse l'ultima grande squadra italiana, direi, perché poi le squadre italiane sono andate a pick, non ce n'è più una nel World Tour. Quanto manca oggi la Liquidas in gruppo? Tanto. Tanto perché, vi dico solo una cosa, il gruppo che era home in Liquidas ancora adesso, se diciamo andiamo a cena domani sera, non ne mancherebbe uno. Nel senso che i corridori che siamo in gruppo ancora adesso, Sagan, Oss, Guarnieri, direttori come Gasparotto, Kreuziger, Nibali che ha smesso adesso, Ivan che, cioè, ancora adesso ci cerchiamo tra i bus, capito? Quindi, cioè, quella cosa lì manca sicuro, ma non solo al professionismo italiano, secondo me anche alle basi. Cioè, guardando indietro, io l'anno che sono passato, siamo passati io, Cimolai, Masei Pateschi, Peter Sagan, l'anno prima era passato Guarnieri, Oss, Ponzi, cioè, ancora adesso Ponzi che lavora per Castelli e passa dal negozio che ho di famiglia, che ha la mia famiglia Verona, ancora Ponzi per me è un compagno, capito? Quindi assolutamente sì, manca tantissimo. Grazie Elia, Manca una domanda. Giustamente richiedono, almeno di provare a fare l'ultima domanda, almeno di provarci. Allora, si chiede a tutti. Scusate, Elia, fate Black Friday in negozio, nel tuo negozio? Certo, sono già partiti, guardate le storie Instagram e vedete tutti i vari... Mi raccomando, marchettone. Allora, si fa, vabbè, facciamo sta domanda perché giustamente si fa a tutti gli ospiti. Si prova. A tutti gli ospiti. Dici, non ti spieghiamo perché, perché è troppo lunga, però perché c'è un motivo per cui si chiede. Però dici tre nomi di corridori nel passato, nel presente o nel... che magari guardavi alla televisione che ti stanno antipatici, con cui non hai un bel rapporto e che manderesti con un biglietto di sola andata... In Colombia, nella cassa di Lopez, vai. Allora, vengono dei nomi facili, però c'è tipo... Puoi dirli, eh? Io dico... La caduta di Rio, Cav, io ce l'ho ancora... Cioè, siamo... Però c'è una rivalità con lui che è Baldi là, quindi uno è lui. L'altro dico... Non male, non male. Tepstra... Sei contento, eh? Tepstra! Attenzione! È il secondo e dice Tepstra. Chi l'aveva detto Tepstra? C'è una premessa. Tepstra è il miglior compagno di squadra che puoi avere, però se non sei in squadra con lui... E... come terzo dico... Ryan Mullen, che adesso è la Borra, credo. Che ha fatto, ragazzi? Come ha fatto? No, nei finali è sempre... Cioè, è un po'... È possente e quindi fa valere quello che è la sua stazza. E quindi... Non c'è troppo. Me lo trovo troppo in mezzo. Buonni, stranamente. Buonni è super nominato, di solito. Ho un buonissimo rapporto con Buonni. Oh, vedi che... Cioè, ammetto, quando combina qualche cazzata, è ovvio che sono il primo a dire, cioè, cosa cazzo fai? Però dall'altra parte, io ho un buonissimo rapporto con Buonni. Cioè, non so quante persone con lui, però io quando c'è Nasser, ogni volta ci salutiamo, ogni volta come va, come non va. Però ci hanno detto che tutti, quando non dicono Buonni, che gli sta sulle palle, lo dicono che gli sta simpatico, c'è un bel rapporto, perché lui fa il pugile e quindi... No, no, no. ...dil timore. Potete chiedere a lui, dovreste fare una serata con lui, magari avrete tutte le verità. Vabbè, Elia, grazie mille, simpaticità. Grazie, Elia. Buona serata e buon becchio. Ciao, in bocca a lì. Grazie mille. Ciao, ciao, buona serata a tutti. Ciao, ciao. Lore, chi era per l'altro che aveva detto te, Pstra? Visconti, credo. Visconti? Ah, non mi sembra Bettiol, un bradino a cazzata. Eh, uno dei due, sì. Comunque, oh, cioè, buoni nomi i primi due, a parte Mulla, vabbè, però Cavendish e Tepstra, Cavendish, eh, tanto la roba. Lo sapevo che Elia avrebbe detto i nomi, non è uno che si fa tanti problemi, mi sembra, quindi... Sì, sì. Ottimo, ottimo. Ottima serata, ragazzi. Dicono che era Visconti, comunque, che era Visconti. Era Visconti, ok, ok, ok. Allora, noi stasera chiudiamo qui, perché comunque è una serata così un po' atipica, perché Elia il giovedì non poteva, e quindi abbiamo anticipato, abbiamo fatto un extra. Però, siccome oggi ho spoilerato un po' sul Telegram, mettendo quattro faccine da donna, e giovedì ci sarà... Noi siamo ora a 270 persone, è una serata tipica per noi, però giovedì, ragazzi, bisogna essere tanti, 5-600, perché... Doppio appuntamento. Allora, doppio appuntamento. Lo diciamo già ora, dai, se sì, lo spoileriamo. Alle 21 c'è Guercilena della Trek, che oltretutto l'anno scorso ha passato anche un momento particolare per lui, e quindi ci darà un po' qualche info sulla Trek. E su Pedersen. E su Pedersen, perché noi abbiamo più o meno già quotato Pedersen, no? Perché più o meno è già uscito anche ieri. No, ancora no. Più o meno, più o meno. Comunque, gli chiederemo di Juan Pedro Lopez, Ciccone, eccetera, eccetera, e più o meno la squadra del Giro. Quindi Guercilena ci spoilererà i programmi dei big della Trek e poi ci saranno le donne della pista. Finalmente sono arrivate. Forse la Guazzini, forse la Guazzini non ci sarà perché accena fuori, però magari potrebbe collegarsi, però in teoria ci sono Balsamo da Dubai e Alzini, Fidanza e Consonni dal ritiro della Nazionale, giusto? Sì, sì. C'è scritto Martina. Quindi, quattro sicure e forse la Guazzini si collega dalla scena. Se viene anche Vittoria Guazzini è un piccolo nostro miracolo e sarei veramente... Cioè, forse mi metto a piangere in live, probabilmente, come l'Alzini sul podio di... Infatti Alessandro Baccaglia... Super. Però aspetta, però. Mi aspetta giovedì. Fidanza e dopo ci sarò. Noto un leggero amore platonico per la fidanza di Jesus Putnik. E no, questo glielo chiederò sicuro al cento per cento perché ma l'ho comprato da tutte le parti e ha fatto CAD da tutte le parti. Ma non lo sa mica chi è. La è. Assolutamente non lo sa. Chi ti fa? Chi scusa? Non l'ha mai visto. È nostro. Ragazzi, prendersi e deve accostare prossimo. È stata una bella serata ieri con il Doc. Abbiamo fatto cinque squadre. Ah, se qualcuno ha delle informazioni sui costi me lo dica a me in privato che mando il maiale di selvatella a casa del Doc che deve tenere la bocca chiusa. Quindi attenzione. Abbiamo fatto cinque squadre. Astana, Bahrain, Sì? Mi sono disconnesso. No, mi sono disconnesso. No, no. Comunque abbiamo fatto il Doc, vedi, è presente. Abbiamo fatto Astana, Bahrain, Agedoser, Archea e Bocca, aiutaci. La Trek, no? No, no. Perché poi si parlava in Nord. In Nord. In Nord. E poi quando si fa i prezzi dei corridori si parlava in Alpes. In Alpes. In Alpes. Ma la Tutor l'avete anche la Tutor. No, ancora no. Abbiamo visto delle squadre ma un lacco leggevi se sbaglio a tratti imbarazzanti. io direi più che a tratti. Direi abbiamo visto delle squadre a tratti. Cioè in alcuni tratti abbiamo visto abbiamo intravisto delle squadre all'inizio. Poi siamo arrivati alla Bahrain e magari è un po' meglio. Sotto la caricatura. Guazzini vista oggi a Giglio d'Oro grande carisma la più applaudita della premiazione. Mulla avete litigato per le quotazioni avete discusso vi siete insultati? No, c'è stato c'è stato un po' di diverbio su alcuni corridori chiaramente il Berta c'ha le sue io c'ho le mia il Mulla c'ha le sue chiaramente la truffa dei corridori a due esiste sempre e esisterà sempre. Nonostante io abbia lottato purtroppo qualcuno mi è scappato. Ci sono state delle carrellate di uno consecutivo anche Doc mi ha dato una mano però è dura. La stana praticamente è tutta così 1-1 2 1-2 1-1 2 la stana più o meno è questa. Se va bene farò la DSM al di là dell'imbarazzante. C'è un Kaifeng e Luca Bandini credo all'ultima serata però diciamo che cerchiamo di dare una squadra top un po' a tutti e quattro le serate quindi o la Jumbo o la Wae farete più o meno o la Inius una delle tre con anche Coramello uguale che mi ha chiesto in questi giorni che squadra gli toccava e da giovedì primo settembre sì ciao primo settembre giovedì primo dicembre inizieremo la presentazione delle quote quindi dei prezzi dei corridori quindi dalla diciamo tra una decina di giorni nella diretta di giovedì inizieremo a presentare le quotazioni seguiteci anche su Instagram perché le faremo un po' su Instagram e un po' su YouTube privilegieremo questi due canali per poi averle tutte definitive diciamo poco prima di Natale e niente sperando che poi l'app sia pronta con tutta aggiornata a fine anno chiudiamo appunto l'anno con tutti i budget eccetera eccetera e a gennaio diciamo noi speriamo tra subito dopo Befana tra il 6 e il 10 gennaio di avere tutto aggiornato e tutto pronto per il download e questo è quanto c'è da dire altro? non lo so vai giovedì grande serata ragazzi bisogna essere veramente in tanti ora da domani la spingiamo sui social perché comunque per noi è un piccolo piccolo traguardo dai insomma la Guazza e l'Alzini erano venute spesso però le altre due con la Balsamo che difficilmente rilascia intervista averle tutte 4 o 5 oro su pista insomma dai bello no? abbiamo dato una settimana si era detto che bisognava fare la settimana della pista e l'abbiamo fatta con un po' di ritardo perché ovviamente poi i ciclisti e le cicliste erano in ferie quindi potevamo farla solo in questo periodo comunque sì in questo periodo non ci sono state tante notizie di ciclismo infatti volevamo fare le news della settimana però non c'è stato niente vuoto nemmeno ciclomercato niente cioè la notizia del mese pensate la notizia del mese del mese non della settimana è Quintana che rifiuta il team Medellin come lo vedete è arrivata una proposta si vede ancora nel World Tour cioè come lo vedete la proposta del team Medellin ce lo vedevo benissimo Quintana insieme a Oscar Sevilla cioè ragazzi quella è una squadra stellare cioè e lui ha rifiutato ha detto che correrà ancora nel World Tour e non si sa dove però io ho una speranza ce l'ho la notizia è che la Total rinuncia al giro dice l'ufficiale ce ne faremo una ragione come l'Archea l'anno scorso dice quindi in questo caso Guardiani Eulo di diritto team Medellin la squadra di Pablo Escobar giustamente scusate ma io ora a questo punto ho un sogno Quintana alla Movist beh perché qui dopo cioè dopo Gaviria Guerrero qui ci manca Quintana ragazzi questa squadra potrebbe dare delle soddisfazioni impressionanti pensate se fosse rimasto anche Lopez sarebbe stato il top veramente fantastico ah notizia del giorno c'è Black Friday 40% quindi ah ragazzi la notizia del giorno la diamo noi allora è uscita avete vista senza un bel dubbio però noi la rimettiamo che non ce l'ho qui puttana Eva ah tra le altre cose posso comunque è vero c'è anche Sosa cioè immaginatevi Sosa Quintana Guerreiro Gaviria ragazzi a guidare tutti questi mass uomo squadra peraltro conosciuto per essere uomo squadra uomo di polso secondo me chiamano la Van Vloyten a fare bellissimo il commento di Alessio di Alessio Scrazzola magari la togliamo per ciao 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 no no cosa era scritto non avevo visto cosa era scritto no no niente avete esplorato qualche quotazione che mi sono perso la line assolutamente no qualcosina forse riguarda no ma in teoria no non giovedì ora che ci saranno le donne praticamente un po' hai esplorato te col fatto che Peders costerà tanto hanno capito questo sì questo sì anche se non si è ancora fatta la quotazione di Peders però ieri abbiamo fatto dei colori simili a Peders e abbiamo capito su che fascia più o meno collocabile questo questo sì spero non più di 35 una follia assolutamente più di 35 te lo posso assicurare guarda cosa Peders eh l'idea è quella perché chi l'ha tanto pompato ora lo paga ragazzi questa è la notizia del giorno è uscita la maglia finalmente abbiamo aggiustato la grafica del maiale di Selvatello quindi arriviamo subito a 50 magliette vendute il primo giorno no l'anno abbiamo vendute già una decina siamo contenti quella maglietta di maglia di Selvatello e se volete vi faccio sentire un audio del maiale se volete ve lo metto perché mi ha avuto oggi ringrazierà per la maglietta immagino no addirittura oh Bulla senti Massimo è dislessico che l'ho accadato tra altre cose aspetta questa è la maglietta l'audio del maiale voglio vedere se una maglietta io sai voglio vedere se una maglietta regalata eh io voglio saccagno se io cano una maglietta me la meriterò si io voglio e le mosse e le magliette io voglio me la regalate eh e io voglio saccagno se io cano una maglietta me la meriterò me la meriterò me la meriterò oh e le mosse e le magliette che financia ragazzi dove è la macchina non è Volkswagen ma la Toyota avete sbagliato che chiede no non è la tua macchina la macchina è la maiale car quella lì quella che aveva chiamato appositamente per essere trainata e quindi non è la tua macchina meriterò infatti io mi ho detto cosa ti meriterò maglietta con meriterò meriterò si è un po' di slessico faccio un quadro della maglia comunque la maglia poi la diamo e facciamo fare un video il maiale parla come Berzi a proposito hai dato già anche le anticipazioni anche su quello che berrà o no si cosa a proposito di maiale si ho fatto una storia domenica perché ero così ero preso bene si però sono vero abbiamo abbiamo ritrovato delle cose dai o dire via no vabbè stiamo stiamo con calma lavorando speriamo per per Natale di farlo uscire al video 3 del Monteseda perché c'era la prima la seconda e poi se avevamo fatto la quarta la terza c'era la terza abbiamo ritrovato tutti i filmati della 3 e quindi uscirà anche il capitolo 3 dopo il 4 cioè come un sequel che è un prequel però va bene è come Star Wars che fanno uscire prima le parti dopo e poi quella prima il prequel del sequel c'è 47 minuti di video in totale quindi c'è del materiale valido direi il cinepanettone il cinepanettone Coramello ha detto sì il cinepanettone assolutamente con questa credito cinema arriviamo noi ho pronto exeguito le quote fatte ricordati Coramello che le tue quote fatte verranno tranquillamente dismesse che tanto alla fine poi difficilmente anche io avevo delle idee e poi in realtà non sono andate a buon fine perché siamo montanti e chiaramente poi vige una sorta di media generale sul prezzo va bene ragazzi allora ci vediamo giovedì tutti carichi a manetta che sarà serata trek la prima mezz'ora 40 minuti e poi arrivano le donne alle 9.30 fidanza con sogni alzini balsamo e forse guazzini ragazzi ciao a tutti arrivederci ciao 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 a tutti